Allora questi sono i computatori e servivano per escludere la funzionalità di questa cabina o della cabina di sopra e funzionavano così, si muoveva questa manovella e qui si mettevano in attivazione tutti i rotabili che ci sono dentro è molto semplice come funzionamento Ci ripassa un attimo il pezzo precedente?